Buongiorno! 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 Buongiorno Laura, è una mia amica! Buongiorno signora! Ciao De, come stai? È un po' che non ci si vede! Ma adesso vedi! E tu? Abbastanza bene, grazie! Vedo che stai facendo degli acquisti! Cosa stai comprando di bello? Guarda, è una camicetta elegante! Sto approfittando di che ci sono i nuovi arrivestiti! Beata a te che te lo puoi permettere! Sai, io, col passare dell'età, ho messo qualche chilo di troppo! Guarda, ti dirò, anch'io mi sono pesantita ultimamente, però da quando mi sono iscritta all'Università di Uncolino ho risolto tutti i miei problemi! Come sarebbe a dire? Guarda, ci sono tantissimi consigli! Ci aiutano a perdere peso, per esempio c'è la ginnastica, ci aiuta appunto a perdere qualche chilo, poi c'è lo yoga, se ci vogliamo rilassare, e poi c'è difesa personale. Sai com'è con i tempi che corrono oggi, meglio che non si sembra retta, eh? Ma noi, in mezzo a tutti quei giovani? E beh, certo! Ma guarda che questi corsi sono fatti proprio per noi, per la terza età! Tra l'altro facciamo tante bellissime camminate, c'è arte grafica, ricamo, pittura, teatro... E tutti questi corsi che stai dicendo nella nostra città e dove? Allora, sono più di sessanta corsi, e sono sbattogliati nelle varie sedi della scuola di Milano. Sai che mi hai convinta? Quando ci sono le iscrizioni? Ma c'è poco da convincerti, cara, perché se ci tieni al tuo spirito e al tuo corpo, hai solo da iscriverti tu. Comunque i corsi sono aperti da settembre sopra di ogni anno. Certamente ci verrò, perché sai, ci tengo a mantenere in forma il mio fisico. Oh, che bello! Certamente ci verrò anch'io. Sì, sì. Tanto guardi, i corsi sono aperti proprio a tutti quanti. Ah, lo dirò, le cliente e le micche, ci vedremo lì. Benissimo! E non sentirmi sempre così fragile. No, no, tu dimmi solo se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione. Dimmi se ancora sei tu ancora di più la nostra canzone che risuona. Tu dimmi se ormai qualcosa di noi c'è ancora dentro gli occhi poi o no. Oh, no. Oh, no.